Scritte inquietanti sui muri, resti di carboni bruciati, è una zona, un posto davvero inquietante. Eccoci a pochi chilometri dallo Stadio San Nicola in quello che viene definito il Boschetto delle Fate. Come vedete qui c'è sporcizia ovunque e resti di quel che dicono, qui avvengono di notte, riti satanisti. Croci al contrario ecceltiche, scritte inequivocabili, una svastica ruotata e una croce uncinata. E ancora un pesante e intenso cattivo odore di bruciato che si comincia a respirare già ad alcune centinaia di metri dal casolare abbandonato. Sarebbe davvero coraggioso arrivare qui di notte poiché già di giorno il luogo è inquietante. Tanti piccoli e grandi segni e simboli che non lasciano spazio ai dubbi. In questo casolare abbandonato, a pochi passi dallo Stadio San Nicola di Bari, sembra che di notte si consumino riti satanisti e messe nere. Prima di addentrarsi in questo luogo si percorre una stradina tortuosa, non molto distante da una discoteca nota in città. Ed eccoci dalle parti di Parco Adria. Dopo aver percorso alcune centinaia di metri si arriva davanti ad un cancello in ferro e in particolare ad alcuni cubi di cemento sui quali ci sono scritte sospette King of Darkness e Follow Me, ovvero Re dell'Oscurità e Seguimi. Per entrare all'interno del Boschetto delle Fate è necessario varcare un ingresso sul lato destro del cancello. Tra alberi secolari, una piccola struttura stracolma di detriti e tanta erba incolta, spunta lungo un sentiero un casolare. È quel che resta di una villa i cui lavori non sono mai stati ultimati. Ed eccoci all'interno. A distanza di pochi metri ci sono carboni bruciati e quel che rimane di piccoli fuochi accesi. Tutto intorno, cumuli di vetri rotti, vasi, tubi, resti di mattoni e tanta tanta sporcizia. In un clima di silenzio spettrale spiccano sui muri altre scritte inquietanti. Al centro della struttura c'è una rampa di scale. Proviamo a salire ed ecco la frase inequivocabile che dà conferma ai nostri sospetti. Questo è davvero il luogo di adorazione di Satana.